Cari compagni, è un piacere e un onore per me condividere con voi questi giorni. Vi porto anche i saluti della mia organizzazione DEA, che ho ricordato oggi è sinistra internazionalista operaia. C'è un'organizzazione della sinistra rivoluzionaria, un'organizzazione trotskista, che ha preso parte alla creazione di Siriza fin dai suoi primi giorni. DEA ha preso parte anche alla creazione della piattaforma di sinistra, anche questo fin dai primi giorni. E quindi mi sento libero di portare i saluti di tutti i compagni della sinistra di Siriza. Per i pochissimi che eventualmente non avessero capito, scusa per i suoi inglesi, ma sicuramente dice migliore del nostro greco. Andiamo così. Per aiutare a capire la situazione in Grecia, presenterò cinque punti. Il primo punto è sulla crisi. Il primo è sulle classi. I'm sure that in this room I don't need to give examples of how hard is the crisis in Greece. I think that all of you knows that in Greece the crisis is deeper than any other country in Europe. sapete anche che in Grecia la crisi è più profonda che in altri paesi europei. Perché già prima della crisi la Grecia era l'anello debole nella catena del capitalismo europeo. Ma comrade, dovete decidere, dovete accettare che la Grecia è un laboratorio. Ecco, però, cari compagni, dovete anche accettare e capire che la Grecia è un laboratorio. What's happening these days to the workers, to the poor people, even to the middle classes in Greece, will be the reality tomorrow in Spain, Portugal, Italy and France. Ma quello che succede oggi ai poveri ma anche alla classe media in Grecia è lo stesso che succederà domani in Portogallo, in Spagna e probabilmente anche in Italia. Va bene, anche in Francia. Va bene, anche in Francia. Anche se lì è un po' diverso. Tutti assieme dobbiamo prepararci per le prossime battaglie che verranno. Questo laboratorio ha una direzione, una direzione reazionaria. è la classe dominante greca, è l'Unione Europea e è l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale, che tutti assieme costituiscono la, beh, più che famosa direi famigerata troica. Questa politica è molto semplice ed è descritta nel primo e nel secondo memorandum. che hanno firmato tutti quanti assieme. Questa politica significa la distruzione totale di tutti i diritti dei lavoratori. Ieri il compagno Cremanschi parlava di un esempio qui in Toscana. Degli insegnanti che, come dice, curavano il giardino. No, no, no. Ok. Allora, ripetate, per favore. Comrade Kremanski ha dato l'esempio di un'esempio sulle regione di Toscania. Dice che in una scuola per i bambini, l'analogia tra insegnanti e studenti è molto grande. Lui ha detto analisi. Io vivo in Atene in un quartiere di classe media, non uno dei più poveri. Questa analogia è di 27 bambini per ogni insegnante. E già a questo livello vogliono ancora dei massicci licenziamenti del personale della scuola. Però questo è un problema minore. Il problema grosso invece è che la scuola non ha soldi per comprare gasolio per il riscaldamento. E quindi questa politica ha un successo. L'analogia credo che forse appunto tra la Toscana e la Grecia. Questo è un esempio del fatto che la politica della Troica ha avuto qualche successo. Qualche mese fa lottavamo contro una proposta di salario minimo a 780 euro al mese. E adesso invece è 580 euro al mese. E questo ancora solo per una parte dei lavoratori. E per quelli più giovani è 400 euro. E per i lavoratori precari è ancora meno e sono 300 euro. E il problema ancora più grande è che ci sono moltissimi lavoratori che continuano a lavorare e non sono pagati proprio per niente. La maggior parte degli scioperi nel settore privato nelle fabbriche è di essere pagati al minimo dopo sei mesi e al massimo addirittura dopo due anni. però questa politica della Troica ha anche invece degli insuccessi, dei fallimenti. non hanno fatto quello che hanno fatto per fare ripartire l'economia greca. Il debito pubblico è di nuovo e ufficialmente al livello in cui era nel 2009. che significa 340 miliardi di euro che significa 380 miliardi di euro. che significa anche che tutti i sacrifici e tutto il sangue del nostro popolo è andato alle banche, ai creditori, alla classe dominante e non a noi. perché il pretesto era che con questi sacrifici avrebbero diminuito il debito pubblico. Nel primo memorandum c'è una prognosi che lo stato greco che lo stato greco che verrà fuori dal debito nel 2014 sul mercato internazionale. cioè sul mercato internazionale, verrà fuori dal debito nel 2014. E questo è un'illusione, un inganno totalmente, non c'è dubbio. Il chief of the German economy, Schäuble, il capo del ministro dell'economia tedesco, ha dichiarato che la Grecia non potrà avere prestiti sul mercato prima del 2022. Ha dichiarato che la Grecia non potrà avere prestiti sul mercato prima del 2022. Quindi la conclusione è che lo stato greco avrà bisogno di un nuovo grosso prestito. i socialdemocrati tedeschi parlano di 77 miliardi di euro. e, ovviamente, un nuovo memorandum e un nuovo program of austerity. e quindi un nuovo memorandum e un nuovo programma di austerity sarà necessario. E siccome nei paesi del nord dell'Europa parlano di questo programma, di la necessità di un nuovo prestito, un rapporto di una banca tedesca che è un pare taglio, Commerzbank, dice che questi 77 miliardi di euro non potrà anche entrare la Grecia e andranno direttamente ai creditori, come gli interessi per i loro prestiti. Dunque, questa banca dice che questi 77 miliardi di euro non entreranno per niente in Grecia e andranno direttamente ai creditori quelli che hanno fatto i prestiti precedenti. E questo sta creando una nuova situazione politica in Grecia e su questo ritornerò. Il secondo punto è sui lavoratori e sulla resistenza popolare. Siamo fortunati, ci va bene in Grecia, che questo fattore è stato presente fin dal primo giorno. Il giorno in cui il governo Papa Andreu presentò al Parlamento il primo memorandum fuori del Parlamento c'erano 500 mila lavoratori che dimostravano neanche tanto pacificamente e che invece cercavano di entrare al Parlamento per impedire, per far sì che, impedire che votassero questo mostro. Negli anni seguenti i lavoratori, la classe operaia ha cercato tutte le forme possibili di resistenza. ripetitivo in molti settori dell'economia e 30 generalistri in 5 anni. scioperi, scioperi a ripetizione in diversi settori dell'economia e scioperi generali. occupazione in edifici pubblici, servizi pubblici e persino nei ministeri. massima confrontazione con la polizia. e non parlo di attività di black bloc, parlo di confrontazione di medici e di professori con ore e ore e ore di gas lacrimogeni da parte della polizia. abbiamo anche cercato nuove forme di resistenza come i movimenti delle piazze, credo l'occupazione delle piazze immagino. anche le parate militari sono stati trasformate in manifestazioni popolari da persone che andavano dentro la parata con banners, con sands e cose così. e persino le parate militari sono state trasformate in manifestazioni, in manifestazioni di protesta con la gente che entrava nella parata con delle bandiere 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 significa che stiamo in Italia e con slogan sempre di resistenza. e con queste forme di resistenza abbiamo cacciato due governi. e con queste forme di resistenza abbiamo cacciato due governi. alla base di questa comprensione c'è l'esperienza di tutti i lavoratori. che per vincere, in questi giorni, per vincere la più piccola riforma per vincere un'augmentation del salario di half of euro che in questi giorni, nella situazione di questi giorni per vincere anche la più piccola avere la più piccola vittoria, anche un piccolo aumento di salario di mezzo euro devi buttare fuori, far cadere il governo e anche eliminare il memorandum. riformare il governo è una cosa un po' astratta. Ah, sì sì. Cioè rovesciare il governo, far cadere il governo è una cosa un po' astratta. Onestamente capiamo che cos'è questo quando lo facciamo. Però abbiamo delle idee un po' più concrete. Overtrowning the government is not exactly or is not yet a pseudonym of socialist revolution. Far cadere il governo non è ancora sinonimo di una rivoluzione socialista. Perché con la situazione di adesso in Grecia possiamo dire che quelli di sopra, quelli che stanno in alto, non possono più continuare a governare come prima. e possiamo anche dire che invece quelli che stanno in basso non vogliono più essere governati come prima. cioè secondo la celebre formula religiosa. Però il livello delle lotte sociali è alto, però non alto in quanto c'è bisogno, non alto abbastanza. E principalmente non è a livello necessario il potere delle organizzazioni sociali. Nella situazione attuale in Grecia non siamo in grado di avere i consigli operai, ma neanche i cordones industriali di cui si è discusso ieri. E dunque non siamo in una situazione rivoluzionaria. Anche se noi sentiamo, abbiamo la sensazione che viviamo in un'epoca rivoluzionaria. Cacciare il governo ed eliminare il referendum non ha niente a che fare con un pacifico processo parlamentare. Perché? Perché le classi dominanti non hanno nessuna intenzione di negoziare, non viviamo in un periodo di dialogo sociale. E dunque per rovesciare il governo, eliminare il referendum, c'è bisogno di una lotta rivoluzionaria dal basso. C'è bisogno di metodi di guerra di classe. Ah, e dobbiamo anche sapere che in questa lotta ci saranno vincitori e perdenti. Siamo in una situazione che siamo in una situazione che ho loro o no. Io vorrei aggiungere tre domande che riguarda la vostra discussione, ma dicendo anche, come Ahmet Soghi ha detto, che non conosco la situazione in Italia e non posso intervenire in questa situazione. Ma credo che sia utile perché è un'esperienza del movimento in Grecia. Tre osservazioni che farà sulla nostra discussione, che non ho la pretesa come sciocchi, di conoscere la vostra situazione, ma queste osservazioni sono utili perché abbiamo situazioni simili. La prima osservazione è che ci sono dei compagni che vogliono mettere un po' in contraposizione i movimenti sociali e le lotte politiche. Quando sento queste argomentazioni mi rendo conto che vengono da esperienze di movimenti sociali deboli. Dalla nostra esperienza in Grecia sappiamo che ogni volta che i movimenti sociali creano speranza nella popolazione, i risultati politici sono immediati. Siriza sta andando così, in alto, e nuova democrazia. E ogni volta che Siriza fa bene il suo lavoro, apprendo degli spazi per l'attività delle masse, anche i movimenti sociali sono in ascesa. La seconda osservazione è quando i compagni cercano di mettere in contraposizione i movimenti sociali e l'attività del movimento operario. La nostra esperienza è che gli scioperi, quindi l'azione dei lavoratori, è il nucleo, il nocciolo e la spina dorsale di qualsiasi movimento sociale. In questi giorni, quindi, con grandi scioperi e gli scioperanti nelle strade, nelle piazze, la solidarietà sociale è molto più facile, ed è anche molto molto più facile il lavoro antirazzista e antinazista. Adesso la terza osservazione, più velocemente, è rispetto ai compagni che cercano di mettere in contraposizione il lavoro precario e i lavoratori precari con dei contratti traduzionali. Abbiamo cercato, onestamente e seriamente, di organizzare le parti precarie della classe operaria. E questo dobbiamo continuare a fare. E dobbiamo continuare a fare questo. Abbiamo creato dei sindacati per i lavoratori che lavorano con i motorini. tutti i lavoratori che lavorano per la banca nazionale greca con contratti di un giorno. Con questa attività abbiamo capito due cose. Una cosa è che organizzare i precari è necessario, ma molto più difficile. E quindi una prima cosa è che cercare di organizzare i precari è necessario, però molto molto più difficile. E che questa quindi non è una scorciatoia per evitare il lavoro invece nelle grandi organizzazioni dei lavoratori, nelle organizzazioni sindacali e così via. La seconda cosa è che la nostra conclusione è che la flessibilità non sarà scobattuta dai precari o solo dai precari, ma dalle grandi forze della classe operaria. Per esempio, in questi giorni, la front line contro la liberazione dei lavori, i lavori liberi, sono i professori, i nurses e i lavoratori municipali. Comrades, I know that all this seems like old-fashioned marches. Questo sembra che quindi lui sta facendo un discorso vecchio-marxista. Questo però ha dato alla sinistra greca una molto maggiore stabilità globalmente rispetto all'euro. E anche in Grecia ci sono seguaci delle vecchie idee o delle idee della vecchia autonomia e anche seguaci delle nuove idee di Tony Negri. Molti di questi non sono a sinistra ma sono a destra di Sirius. Perché queste idee non portano a errori di sinistra ma di destra. In Grecia abbiamo gli anarcho-riformisti. E adesso il terzo punto è su Sirius. La mia prima osservazione è che Sirius al suo inizio non era al 27%. All'inizio della crisi era al 4,5%. Il Partito Comunista intorno all'8%. e l'Antarsia era al 2,5%. Sirius ha ottenuto l'antagonismo interno della lefta in una base politica politica. e questo è successo in un periodo di grandi lotte. e di lavoratori in piazza. E questo è successo in un periodo di grandi lotte e di lavoratori in piazza. Ci sono due ragioni che spiegano questa vittoria. L'appello permanente di Sirius per l'unità della sinistra nelle lotte. E il secondo motivo è l'appello di Sirius per un governo di sinistra. Dovete anche sapere che quando parliamo di sinistra in Grecia i socialdemocratici non sono inclusi. parliamo quindi di questo governo di sinistra con il Partito Comunista di sinistra. Questo non ha niente a che fare con il Gospiuriel in Francia o l'unità della sinistra in Italia. Il governo è un problema. Il governo è un problema. Durante questo periodo e questa esperienza, in realtà in Grecia, i socialdemocratici sono stati distrutti. Attraverso queste esperienze di unitarietà in Grecia, i socialdemocratici sono stati distrutti. 5 anni fa il PASOC aveva il 44% dei voti. E adesso stanno tra circa un decimo anno, tra il 4,5% e il 5,5%. E questo è il primo esempio che dimostra che possiamo punire i socialdemocratici per le loro politiche neoliberali. Ma anche l'appello per un governo di sinistra è un elemento programmatico. Perché il programma politico non è soltanto quello che domani rivendichiamo. È anche come e quando lo chiediamo. E quindi l'appello per un governo di sinistra è stato capito dai lavoratori greci come un appello che significa che possiamo vincere e vincere adesso. La mia seconda domanda su Siriza è che non è mai stato un lavoro facile. Andando in giro per il mondo vedo che ho visto che c'è una grande richiesta di sapere su Siriza. Molte forze riformiste hanno proposto della creazione equivalente di Siriza. E noi ci siamo stati in Siriza fin dal primo giorno. E continuiamo a combattere per Siriza. Però non siamo d'accordo con questi appelli, quelli che ci sono in giro. Perché sappiamo che Siriza è stata costruita con un duro lavoro. con molte richieste politiche e anche molte scissioni. Per esempio una scissione in sinistra. che hanno expulso la sua destra che fino a due mesi fa era nel governo di Guadalupe. L'ultima osservazione è che anche adesso Siriza non è un lavoro facile. Posso immaginare che da lontano tutto può sembrare facile. La realtà è che c'è un lavoro difficile in Siriza per la sua orientazione politica. In realtà invece continua ad esserci una dura lotta all'interno di Siriza per il suo orientamento politico. Io posso darvi molti esempi, ma come sono lontano in tempo, sto riuscendo. E quindi ti dico che c'è un lavoro tra i reformisti radicali, i centristi e il marxismo rivoluzionario sulle perspektive della Siriza. potrei fare molti esempi, ma mi limito. Dunque c'è una lotta tra riformisti, riformisti radicali, centristi e marxisti rivoluzionari all'interno di Siriza per l'orientamento politico. E poiché questa lotta è molto importante e non è finita, Nell'ultima conferenza di Siriza abbiamo dichiarato che non scioglieremo la nostra organizzazione, come invece era stato proposto. La prognosi era che saremmo stati facilmente sconfitti. e la realtà invece è stata esattamente l'opposto. Siamo usciti dalla conferenza con la dichiarazione che non ci sciogliamo, non ci saremmo sciolti ed eravamo più forti di quando la conferenza o il congresso è iniziato. Molto più forti. Il quarto punto è sulla situazione natura. La prima osservazione è che stiamo vivendo il collasso della success story, della storia di successo di Samaras. Ora come ora questo governo non ha più nessuna storia da raccontare alla popolazione. Anche i settori della classe dominante non riescono a immaginare come potranno sopravvivere a lungo con un altro memorandum. Anche i giornali borghesi hanno cominciato a dire, insomma, a prendere in considerazione che forse può essere una buona cosa di sacrificare Samaras per salvare il sistema. Dunque Samaras sta con un governo che è debole e instabile. Però, compagni, come sempre, la bestia ferita è una bestia molto pericolosa. Questo governo, il governo Samaras, sta organizzando un pesante attacco contro la popolazione. Al centro di questo attacco ci sono massicci licenziamenti nel settore pubblico. La gente si rende conto che a questo punto è in gioco il futuro delle scuole e della sanità pubblica. Adesso Samaras sta implorando soccorso dalla Troica, sostegno soccorso dalla Troica. E sta preparando le condizioni per la firma di un nuovo memorandum. E sta preparando le condizioni per la firma di un nuovo memorandum. La settimana scorsa le scuole sono state chiuse per uno sciopero di una settimana degli insegnanti. Poi hanno deciso che continueranno nella prossima settimana per un altro sciopero di 48 ore e poi con un'assemblea generale decideranno che cosa fare e come continuare. Attorno a questi scioperi stiamo cercando di organizzare qualcosa che per noi è estremamente importante. E chiamiamo queste organizzazioni Comitati Popolari di Resistenza. L'appello è da Siriza e Antarsia. L'appello è per salvare la scuola pubblica, gli ospedali, la sanità pubblica. Ma l'appello dice anche che cerchiamo di organizzare delle strutture per cacciare Samarans oggi. e domani può supportare il governo della lefta contro le attacche della righte o del Stato o resistere al governo della lefta se questo governo attaccherà il mondo. E anche in un indomani, anche secondo che il governo verrà, se verrà un governo di sinistra, anche resistere a un governo di sinistra se questo attaccherà la sinistra. In questo ambiente Siriza è già la prima parte in tutti i gallupi. In questa situazione Siriza è al primo posto nei sondaggi galli. e che dicono che se ci saranno le elezioni adesso, Siriza vincerà le elezioni. su quale base politica? Tsipras ha stato costretto a dare una risposta al ministro delle finanze tedesco, Tsipras. In tre punti. In tre punti. Se Siriza creare un governo, non accetterà un nuovo prestito. Se Siriza metterà in piedi un governo, non accetterà un nuovo prestito. E non firmerà un nuovo memorandum. E cesseremo di pagare gli interessi ai creditori. Prestatele. Non sembra tanto radicale, però voi avete ragione ad applaudire. perché in realtà è un atto di guerra contro la borghesia greca e i suoi supporti, i suoi sostenitori internazionali. La corrente di sinistra in Siriza è lì, ad aggiungere a questa politica tutte le altre misure necessarie per mantenere la vita. La corrente di sinistra in Siriza aggiunge anche tutte le altre misure necessarie per sostenere queste proposte dichiarate da Tsipras. E sto parlando principalmente sulla nazionalizzazione delle banche. Quindi principalmente la nazionalizzazione delle banche. E anche misure contro la libera circolazione dei capitali per muovere. In realtà misure contro la libera circolazione dei capitali. che poi significa la possibilità di far uscire e portare all'estero i capitali stessi. E quindi l'ultimo punto è che per capire Siriza bisogna capire che all'interno di Siriza c'è una corrente di sinistra che è intorno al 30%. La nostra dichiarazione è che si dovrà fare allianza soltanto con il Partito Comunista e Antarsia. E che è un criterio minimo per un governo di sinistra e che deve essere un governo soltanto dei partiti comunisti. e quindi questo appello della sinistra è che ci dovrà essere la... la decisione unilaterale di non pagare gli interessi del debito. Non solo gli interessi. Il debito. Cancellare il memorandum e cancellare il memorandum. Quindi cancellare il memorandum e cancellare il debito. E questo ci porta al punto critico dell'euro. E questo ci porta al punto critico dell'euro. E dobbiamo fare questo con tutti i mezzi necessari. E compresa anche la possibilità di uscire dall'euro. Questa politica però non ha niente a che fare con il nazionalismo, con una politica nazionalista. perché proponiamo questo come un atto del governo di sinistra. e in una politica più ampia con misure di salvezza della classe operaria. Il nazionalismo economico parla di ritorno alla dracma per salvare l'economia nazionale greca. E questo può essere una tragedia anche per la classe operaria. E questo può essere una tragedia per la classe operaria. E questo può essere una tragedia per la classe operaria. E ancora qualche cosa sui nazisti che è un punto importante. Molto importante. Un po' anni fa, il Golden Dawn era una secta di lunatici. Solo pochi anni fa, questa alba dorata era una secta di pazzoidi. Li conosciamo benissimo e ci siamo confrontati con loro molte volte. e in realtà sono diventati un partito a causa della crisi, ma non solo di questo. In realtà, le loro attività sono organizzati ora da ufficiali della polizia e dell'esercito, cioè da professionisti. E quindi il loro aumento, la loro crescita, fa parte della politica autoritaria greca anche del governo Samaras. Combattiamo molto duramente, precisamente contro questa alba dorata. ma sappiamo che questi saranno sconfitti assieme a Samaras e con la cancellazione del memorandum nel quadro di una grande vittoria del movimento dei lavoratori e della sinistra in Grecia. Detto tutto questo, cari comandi, cari comandi, in Europa queste cose seri possono essere risolte in Italia, in Francia, in Germania. e dunque il nuovo internazionalismo di cui abbiamo bisogno è una cosa molto concreta. Dobbiamo fare molte cose insieme perché i nostri popoli hanno bisogno di tutto questo. Buona fortuna a tutti. e buona fortuna a tutti.